Buongiorno a tutti, oggi è giovedì e come ben sapete ogni giovedì ci troviamo a fare un pochino di analisi per quanto riguarda quella che sarà la puntata di oggi alle 14 della Bobo TV Channel quindi non mancata assolutamente perché a differenza di quella della settimana scorsa dove c'era un po' meno roba di cui chiacchierare lato Juve oggi abbiamo deciso di andare fortemente sulla Juventus per analizzare quella che a tutti gli effetti è una crisi che per quanto mi riguarda è inaspettata perché devo dirvi la verità avevo più fiducia del previsto in questa Juve che traduco perché non vorrei mai che qualcuno poi capisse quello che non significa che mi immaginavo che vincesse lo scudetto anzi lo sapete bene da quel punto di vista sono sempre stato molto pessimista però ero convinto che lo stop di San Siro ma soprattutto secondo me lo stop in casa con l'Empoli non avesse creato questo effetto domino e invece ci ritroviamo adesso in una situazione molto delicata da prendere con le pinze e che se mi domandate mi fa dire attenzione a non sottovalutare l'Ellas Verona che non significa che perderemo con l'Ellas Verona ma che non mi immagino a questo punto una partita facile per la Juve e non venite mai a dire sì ma è l'Ellas anche l'Empoli era l'Empoli anche l'Udinese era l'Udinese non si tratta della forza dell'avversario si tratta di capire comprendere e constatare qual è la situazione psicologica della Juventus in questo momento e parlo di situazione psicologica perché nei giorni scorsi tra la live e il video di ieri vi ho parlato di quanto sia impattante la mente per questo gruppo squadra perché dal punto di vista tattico siamo sempre fermi lì non è cambiato niente dal giorno 1 dell'arrivo di Allegri le uniche cose che sono modificate dal punto di vista tattico è stato quell'accenno di pressing che Reggio Emilia con il 4-2 si è portato via e una cosa che spesso non si dice che è la riaggressione della Juventus in questa stagione che avevamo già affrontato proprio in una delle prime puntate di BoboTV Channel alle 14 ci vediamo oggi ovviamente su Twitch in cui andavamo a considerare la differenza tra Juve e l'Inter perché il dato della riaggressione dell'intensità della riaggressione della Juve e dell'Inter sono incredibilmente simili quindi è il dato dell'efficacia della riaggressione della Juve che è negativo rispetto a quello dei Nerazzurri la Juve ci prova ma non ci riesce se vogliamo proprio raccontarla in parole semplici quindi quell'accenno di pressing e la riaggressione nella metà campo avversaria sono le uniche cose in più rispetto all'anno scorso e che secondo me insieme alla mentalità ti hanno fatto arrivare fin qua poi è ovvio che stiamo parlando di concetti basilari di troppo poco rispetto ai tre anni perché dal punto di vista tattico non c'è stata evoluzione dal punto di vista tattico ci sono state delle piccolissime migliorie che non valgono tutta questa attesa però poi bisogna anche parlare della testa dei calciatori che è stata la grossa differenza rispetto all'anno scorso ma vi ho già annoiato abbastanza con questo discorso e quindi entro a piedi pari in quella che sarà la discussione perché c'è un caso chiesa c'è un caso chiesa dobbiamo dircelo con grande chiarezza c'è un caso chiesa e non vi parlo di un caso relativo a campo no, c'è un caso chiesa relativa a quella che è la narrazione oggi su chiesa da parte dei giornali e vado a spiegarvi meglio chiesa è un giocatore con contratto in scadenza 2025 e già quest'estate si era parlato di cifre, di rinnovi, di richieste a rialzo non ci si è mossi su chiesa si è rimasti fermi ad oggi non si sa se chiesa rinnoverà o meno il contratto con la Juventus non lo sappiamo la Juventus sta però cercando degli esterni questo lo sappiamo Felipe Anderson ha parametro zero e dato che ieri sera la Lazio ha vinto col Bayern Monaco un'impresa incredibile di Sarri in Champions League va di moda forse anche il nome Lazio c'è anche il nome di Zaccagni da oggi perché è un giocatore che la Juventus potrebbe andare a cercare in scadenza quindi Zaccagni e Felipe Anderson sono giocatori che la Juventus potrebbe cercare da qui in avanti quindi viene logico pensare che se cerchi dei giocatori magari a parametro zero magari a condizioni contrattuali favorevoli e quindi poi significa che vuoi giocare con gli esterni parto da questo presupposto aggiungo implemento nel discorso di dire se il problema focale della Juventus in questa situazione qua è che ha i giocatori più scarsi dell'Inter e che quelli dell'Inter sono meglio io allora i giocatori forti non li voglio togliere dalla Juve chiese un giocatore forte sì non l'ho considerato un fenomeno comunque dovete considerarlo di impatto maggiore rispetto alla media questo va detto poi è un giocatore che da solo cambia il volto di una squadra? per me no per me no perché il percorso di crescita di Federico Chiesa si è interrotto a Roma purtroppo con quel crociato oggi Federico Chiesa è un calciatore che fisicamente è un'incognita è tornato da un crociato e io adesso vi dico una cosa che ho sempre detto un pochettino è velata ma adesso la dico proprio secondo me qualcosa non è andato bene tra operazione e recupero di Federico Chiesa perché ci ha messo tanto tempo in più tanto tempo in più quando è tornato è tornato con un pochino di calma lo ricorderete io il finale di stagione dell'anno scorso Federico Chiesa me lo immaginavo esattamente così quando quest'anno è tornato e all'inizio la Juventus appunto si aggrappava al pressing secondo me si è visto un accenno del vero Federico Chiesa oggi è un giocatore che non sta bene fisicamente oggi Federico Chiesa non sta bene fisicamente tra l'acciacchino e il dolorino è più fuori che dentro in questo momento è un dato di fatto e mi dispiace mi dispiace perché quando un calciatore del genere con il suo modo di giocare non sta bene fisicamente difficilmente riuscirà a dare il suo 100% non ce la può fare ed è un giocatore che ha bisogno di essere inserito in un contesto giusto Federico Chiesa non è per intenderci il regista che palla lui e ti comanda tutta l'impostazione non è l'attaccante che palla lui e ti faccia salire la squadra non è il difensore che uno contro uno non mi vai via neanche per sbaglio non è il portiere che ti fa 10-20 parate in una stagione decisive e a cui è difficile fare gol è un giocatore che quando è arrivato la Juventus ormai quasi 4 anni fa prendeva palla saltava quasi tutti e riusciva a fare gol anche all'interno di un contesto che lo vedeva schierato come quinto di centrocampo lo ricorderete Chiesa a compirlo giocava a sinistra con Danilo a coprire le spalle in un modulo fluido che potevano definire 3-4-1-2 3-5-2 in cui Chiesa ha dato il meglio di sé ha fatto vedere cose incredibili e poi quel maledetto ginocchio che ha interrotto quel percorso meraviglioso dove Chiesa era riuscito anche in nazionale a far vedere cose spettacolari e dato che quest'estate ci sarà un europeo ripensare a quello che è stato l'europeo di Chiesa mi fa emozionare quindi dato che prima vi dicevo giocatori forti o giocatori sopra la media ecco io Federico Chiesa il contratto l'avrei fatto firmare ieri non oggi ieri però vi dico una cosa io mi immagino una Juventus dell'anno prossimo in cui ci sarà o Chiesa o Allegri non tutti e due io credo che Chiesa e Allegri insieme alla Juventus sia impossibile da avere l'anno prossimo e ve lo dico perché continuiamo a leggere questa rincorsa a fare in modo di far apparire Chiesa come quello che vuole più soldi o il contratto nei momenti quando invece magari non è nemmeno così lo sappiamo bene che l'opinione pubblica poi può cambiare può influenzare fortemente i giudizi e far passare delle cose per non proprio veritiere su Chiesa si rischia un caso di bala cioè ci vado dritto ci rischi un caso di bala ma ne avevamo già parlato in un altro video però vi dico Chiesa e Allegri insieme secondo me è impossibile perché alla fine abbiamo capito che Chiesa e Allegri anzi Chiesa per Allegri è un calciatore che diventa quasi un equivoco tattico tant'è che il miglior Chiesa l'abbiamo visto quando Cambiaso entra dentro il campo e può partire largo da sinistra perché Chiesa dentro il campo secondo me fa fatica a giocarci perché è un giocatore da esterno e mi piacerebbe tantissimo vederlo esterno in un 4-3-3 Chiesa da una parte Ildis dall'altra Vlaovic in mezzo oh che bello che sarebbe o un 3-4-3 Chiesa da una parte Ildis dall'altra Vlaovic al centro oh che bello che sarebbe sarebbe bello perché ce li abbiamo abbiamo la possibilità di farli giocare non vedo perché privarci di questa cosa poi c'è l'opzione che è né Chiesa né Allegri che io vi dico la verità non scarterei a priori perché bisogna capire che tipo di Juventus sarà con chi in panchina Allegri allora niente Chiesa non Allegri allora rinnovo Chiesa vado a fare una valutazione sulle condizioni fisiche sulle richieste economiche su quello che potrebbe essere anche l'accessione del ragazzo ma un anno di distanza ovviamente lo vai a cedere a meno di quello che può essere il suo valore quindi 50 milioni non credo proprio 40 milioni non credo proprio come sui 30 se non 25 vi dico proprio la verità a un anno dalla scadenza del contratto e con il giocatore con dei problemi fisici che non significa che il valore di Chiesa sia quello perché ripeto forse per me Chiesa rinnovava non oggi non domani ieri ma secondo me questo continuo aspettare su Federico Chiesa ma con la Juve che comunque sta cercando degli esterni è legato al fatto che bisogna capire se ci sarà Allegri oppure no io da questo non scappo poi né Chiesa né Allegri la prendo in seria considerazione perché dipende dal punto di vista economico la Juventus che cosa può fare traduco se l'opzione necessaria della Juve dal punto di vista economico è cedere uno tra Chiesa e Ildis o su Le o su Le magari la Juve dice tengo i due più giovani che dal punto di vista della futuribilità della programmazione è un ragionamento giusto coerente però dico anche che dall'altra parte dal punto di vista dell'investimento fatto su Chiesa 60 milioni di euro e dal punto di vista dei quattro anni che ha acquisito alla Juventus della maturità che l'ha reso un calciatore tale da essere il riferimento della Nazionale e secondo me la Nazionale non va ai mondiali perché manca Federico Chiesa ve lo dico proprio fuori dai denti ci penserei più volte anche perché il discorso è poi sempre quello Allegri ha sempre focalizzato la Juventus anche nel suo primo ciclo sulla fase difensiva Allegri ha sempre curato in maniera maniacale quel concetto lì lasciando invece molta più libertà nello sviluppo dell'azione nella sviluppo della finalizzazione in tutto il resto che non è fase difensiva quando hai il pallone in poi e se a centrocampo hai dei giocatori pensanti dico pensanti perché è quello che chiede Allegri quindi Pirlo Vidal Pogba Marchisio che dira Matuidi Pjanic allora poi se davanti c'hai anche o Morata Tevez o Iguain di Bala Quadrado Mandzukic c'è caso che qualcosa si riesca a fare perché tutti i giocatori sono pensanti se a centrocampo come hai adesso non hai della fantasia ma hai solo tanta corsa perché Rabiot e Kenny Locatelli è un centrocampo poco tecnico ma terribilmente fisico allora poi magari sopra c'è anche quel giocatore maggiore come Chiesa o quel giocatore maggiore come Ildis dal punto di vista dello spunto dell'uno contro uno della velocità d'esecuzione però poi significa essere abbandonati a loro stessi se non c'è un contesto un'organizzazione tale che ti dice in questa situazione di gioco devi fare questo tipo di azione in quest'altra situazione di gioco la palla va là su quel giocatore in quello spazio là dopo diventa libera interpretazione dei calciatori che è esattamente quello che vuole Allegri e per un giocatore caotico disordinato come Federico Chiesa è un problema perché secondo me Chiesa rende al meglio all'interno di un'organizzazione perfetta e ordinata per quello che vi dico se la Juve il prossimo anno avrà intenzione di cambiare allenatore io almeno un ultimo ballo a Federico Chiesa glielo voglio garantire che significa sottoporgli un rinnovo contrattuale perché è un giocatore che so che può dare qualcosa in più poi non significa che Chiesa sia esente da colpe critiche no tutti in questo momento io metto allenatore squadra tutti sulla stessa linea perché se la colpa di Allegri è quella di non aver dato un'organizzazione in tre anni in tre anni ma averla sempre ragionata dal punto di vista del ne prendo il meno possibile così non serve fare così tanti ai calciatori però vi dico d'accordo però perché nella prima parte di stagione con quello stesso vuoto tecnico tattico siamo andati bene adesso abbiamo mollato è una roba inconscia lavoriamoci allora perché tanto dal punto di vista tattico degli aiuti dei supporti non arriveranno non sono arrivati nei due anni e mezzo abbondanti precedenti non arriveranno negli ultimi quattro mesi di questa stagione non arriveranno se invece è un discorso di aver proprio mollato consapevolmente allora li mi arrabbio allora li mi arrabbio perché è un discorso semplicemente di voglia quando si indossa la maglia della Juventus anche solo per garantirsi un futuro perché magari Allegri andrà via ma voi rimarrete e continuerete ad andare in campo dovete imparare che non si molla mai ma questo non è che vale per Chiesa vale per Chiesa per Vlaovic per Rabiot per Rocatelli per Bremer per Petizio Caio Semprogno e Pierino perché l'allenatore oggi è quello che ha la macro colpa se analizziamo i tre anni la macro colpa poi ci sono le colpe specifiche da andare a distribuire perché poi magari verrà tagliato il ramo relativo ad Allegri che è un ramo secco e che secondo me dopo questi tre anni va tagliato però poi quando magari arriverà quell'altro che avrà bisogno magari di ancora più disponibilità da parte dei giocatori perché non mi aspetto Antonio Conte Jurgen Klopp Pep Guardiola Zinedine Zidane allenatori che hanno già vinto stravinto qui là su giù dappertutto mi aspetto un Tiago Motta mi aspetto un italiano mi aspetto un Tudor mi aspetto un allenatore che è in rampa di lancio sta facendo bene in questi anni ha un ingaggio contenuto e soprattutto non ha pretese economiche di un certo tipo che può lavorare con quella disposizione dato che la Juve negli anni ha accumulato un certo vantaggio rispetto agli altri con giocatori della next gen i vari Ildiz e sulle di cui parlavamo prima ma anche Caio Barnecea che sta facendo molto bene a Frosinone i vari Nicolussi Caviglia Hiling Miretti Fagioli che tornerà tutti i giocatori che comunque sono stati importanti Uisen che ora la Roma che si sono visti in questi anni e quindi c'è stata una sorta di progetto io mi aspetto un tipo di allenatore del genere però se i calciatori mi iniziano a mollare adesso perché è così allora tanto c'è l'alibi il cuscinetto allegri poi magari l'anno prossimo arriva nella stessa situazione e quel click inconscio ti fa dire vabbè tanto poi c'è il parafulmine che è l'allenatore allegri ha le macrocolpe perché ha il terzo anno ma l'allenatore che verrà l'anno prossimo e si troverà in una situazione difficile al primo anno non metto mica lui in pasto ai leoni perché dipende anche quanti anni è che lavori sulla Juventus e ci sono tanti giocatori che sono al terzo quarto anno di Juve e ancora non hanno vinto niente e sapere che non hanno più fame nemmeno di dimostrare con ancora una Coppa Italia in gioco e la possibilità di giocarsi il futuro a Juventus di rinnovi eccetera mi fa imbestialire quindi voglio che sia chiara questa cosa qui poi c'è un caso Chiesa secondo me sì c'è un caso Chiesa perché non è un caso che i giornali continuino a titolare su Federico Chiesa se i giornali continuano a spingere su Federico Chiesa è perché c'è una richiesta di andare su quel giocatore lì c'è un bersaglio su Federico Chiesa che non significa che sia un bersaglio malefico della Juventus magari c'è la volontà da parte della Juve di venderlo e si sta cercando di sondare il terreno con qualche squadra la ritengo la soluzione giusta no perché i calciatori forti alla Juventus devono rimanere perché se no siamo qui che diciamo eh sì però tecnicamente ci mancano i giocatori per anche Di Bala infortuni permettendo ma tecnicamente quel qualcosa quel qualcosa in più te lo dava e l'abbiamo fatto andare via a zero fare andare via anche Chiesa a zero dopo tre anni dall'addio di Di Bala a me sembrerebbe una follia perché se il problema sono l'allenatore che tatticamente non dà niente e i giocatori che tecnicamente non sono forti se regaliamo i giocatori forti o comunque li svendiamo per me c'è qualcosa che non va bisogna ripartire dalla valorizzazione bisogna ripartire da lì che è un procedimento è un processo lento bisogna partire da questo presupposto è un procedimento è un processo lento che poi mi auguro che possa portare a un trionfo perché alla Juventus alla fine della fiera bisogna vincere magari servirà un po' più di pazienza questa volta con un nuovo processo un nuovo progetto in corso può essere ma bisogna sempre ragionare che alla Juve serve vincere e per vincere questo è un mio dogma non prendiamoci in giro servono calciatori forti perché in campo ci vanno i calciatori in campo e deve essere preparato prima dall'allenatore in allenamento nel campetto l'allenatore è nel campetto i giocatori sono nel campo e serve un connubio vincente tra tutti e due con a capo ancora su una dirigenza forte che sceglie l'allenatore giusto per la squadra giusta questa è la mia visione ma fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ci vediamo alle 14 su Twitch Bobo TV Channel ciao